Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del corecomo Piemonte. Buongiorno, sono Giorgia Tessadri, una studentessa universitaria e da circa un anno e mezzo collaboro con il Club per l'UNESCO di Torino. Oggi sono qui con la professoressa Maria Paola Zario, presidente del Club per l'UNESCO di Torino, che ci spiegherà in che cosa consiste il progetto Educazione alla cittadinanza globale. Professoressa, le chiedo che cos'è il Club per l'UNESCO di Torino e di che cosa si occupa? Il Club per l'UNESCO di Torino è un'associazione, ODV, cioè un'organizzazione di volontariato, che si occupa dal 1983, da quando è nata, di educazione principalmente. Educazione e formazione, rivolta sia agli insegnanti, sia ai genitori, sia agli studenti, su temi che sono i temi prioritari dell'UNESCO. Abbiamo parlato di educazione, ma cosa significa educazione per l'UNESCO e per il Club per l'UNESCO di Torino? E in particolare le chiedo di spiegarci che cos'è il progetto Educazione alla cittadinanza globale che il Club per l'UNESCO di Torino ha proposto in questi anni agli studenti e agli insegnanti delle scuole secondarie. È un progetto che si rivolge appunto a tutti gli insegnanti e studenti di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado per aiutarli a comprendere che il mondo è complesso, che il mondo non è fatto solamente dei territori dove loro abitano anche se nei territori dove abitano devono imparare soprattutto a essere solidali con il mondo che li circonda e a comprendere che il mondo che li circonda è la prima palestra per imparare ad essere poi solidali con il resto del mondo. I nostri studenti fortunatamente in generale nell'Italia hanno imparato a viaggiare però viaggiare non è sufficiente, bisogna saper viaggiare e saper vedere che cosa le altre culture ci insegnano. Quindi l'educazione alla cittadinanza globale vuol dire saper prendere in meglio dalle altre culture vedere le altre culture come delle alleate per un concetto di solidarietà internazionale che deve essere trasmesso sia alle nuove generazioni sia alle generazioni future e anche alle generazioni passate che forse qualche volta hanno dimenticato questo. L'educazione alla cittadinanza globale noi la facciamo attraverso un primo incontro online successivamente gli studenti vengono a visitare il campus dove noi abbiamo la fortuna di avere la sede il campus dell'ONU che è l'unico organismo che è stato fondato nel mondo per dedicarsi totalmente alla formazione. È una fiore all'occhiello del Comune di Torino che dal 1965 ospita tre diverse organizzazioni internazionali che dimostrano che la formazione permanente è non solamente un qualche cosa di efficace ma qualche cosa che può davvero servire alla cooperazione internazionale. Facciamo parlare i giovani con i dipendenti delle diverse organizzazioni che sono presenti nel campus e questo da loro sia delle possibilità di orientamento professionale sia anche delle possibilità di coprire i discorsi del PCTO e i discorsi dell'educazione civica, cioè diamo loro in 5 ore o 8 ore a seconda di quello che loro stessi scelgono la capacità e la possibilità di non sentirsi soli in questo mondo che in questo momento propone solo delle situazioni critiche ma di toccare con mano che esistono organizzazioni internazionali che ci possano aiutare a superare le difficoltà. Bene, come ultima cosa le chiedo se il programma continuerà anche nei prossimi anni e se continuerà come è possibile contattare il Club per l'UNESCO di Torino e informarsi in merito al programma. Il programma continuerà di sicuro perché è un programma a cui noi teniamo moltissimo anche perché abbiamo avuto sempre delle risposte dagli studenti che sono veramente delle risposte interessanti e che dimostrano quanto i nostri giovani siano capaci di essere in grado di comprendere quello che loro viene insegnato. Il Club per l'UNESCO di Torino si trova al campus ONU, abbiamo un sito web, sul sito web potete trovare tutte le informazioni per poter continuare ad aderire al programma. A quest'anno, nel solo 2023-2024, abbiamo avuto 700 studenti che sono passati con 70 insegnanti. Ci auguriamo di superare questo numero nel prossimo anno. Grazie. Piazza dei Mestieri nasce a Torino nel 2004 e nasce da un desiderio, quello di aiutare i giovani e i adolescenti nel loro percorso di crescita e accompagnarli all'inserimento lavorativo. Abbiamo iniziato perché ci siamo accorti che c'era una grande necessità, che era quella di aiutare molti ragazzi che non trovavano il loro percorso normale nella scuola e quindi di dare loro una opportunità. Per aiutare i giovani bisogna sempre pensare che bisogna saper accogliere il loro desiderio, che bisogna avere a cuore di valorizzare i loro talenti e quindi è importante che la proposta sia una proposta integrale, complessiva per la loro educazione. Per questo abbiamo anche pensato di dare vita a una serie di attività culturali, facciamo circa 70 eventi all'anno, da rassegne jazz, rassegne di teatro, gare di cocktail, di acconciatura, perché i giovani possono fare veramente, guidati dai loro maestri, da professionisti, possono fare un'esperienza vera di lavoro. Questo è stato uno degli elementi di successo di questi primi 20 anni perché ha avuto dei grandi risultati in termini di inserimento lavorativo di questi ragazzi proprio nel mondo del lavoro e nelle professioni per le quali avevano studiato. 20 anni fa abbiamo pensato al fascino delle piazze di una volta in cui si potevano imparare dei mestieri guardando le botteghe artigiane intorno ma c'era un incontro continuo tra generazioni diverse, tra culture e tecnie diverse ed è quello che abbiamo provato a rifare anche con la nostra piazza. Quindi la piazza in questi 20 anni è diventato man mano un luogo anche di inclusione dove veramente non si sente la diversità tra la persona che appunto con una cultura diversa arriva qui ma dove i giovani vengono educati, usiamo questa parola che sembra fuori moda, educata dai loro maestri, quindi da persone più adulte e talvolta anche anziane. Ma cosa si faceva anche in queste piazze di una volta? Si usavano le mani, queste mani che sono mani intelligenti e che costruiscono, che hanno fatto grande l'Italia, che lavorano sul Made in Italy. E poi come si fa? Non si può far mai da soli. Ci siamo accorti che per educare i nostri giovani c'è bisogno di essere insieme, c'è bisogno di un noi, c'è bisogno, il Papa diceva, di un villaggio secondo un proverbio africano e quindi abbiamo bisogno di tutte le forze più vive del paese. Ed è per questo che anche la celebrazione dei nostri 20 anni vorrà essere un ringraziamento. Ringraziamento innanzitutto a un territorio che ci ha accolti qui, nonostante noi siamo nati a Torino e quindi abbiamo, amiamo particolarmente il territorio, dei territori di Milano e Catania che ci hanno accolti, ma anche di tutte le forze sociali. Penso all'associazione idatoriale, ovviamente mi viene da citare Lega delle Cooperative, ma anche tutte le forze anche di cooperazione. Ma penso ai sindacati, penso a tutte le imprese, penso alle singole parrocchie e tutto quel secondo livello importantissimo per le generazioni per non stare da sole e per imparare. Oltre ai ragazzi che hanno dai 14 ai 18 anni, che hanno fatto un po' a botte con la scuola e che vengono a frequentare dei percorsi triennali qui da noi più il quarto anno, abbiamo altri ragazzi, di più ragazzi che vengono al pomeriggio a fare i compiti, tipo frequentando licei, istituti tecnici, ma che fanno fatica a capire il nesso tra la scuola e la realtà. E poi c'è tutta l'accoglienza dei ragazzi rifugiati, di quelli appena arrivati dai barconi a Lampedusa e con loro facciamo dei percorsi per imparare l'italiano. Il tutto sempre dentro i laboratori, perché si impara facendo, usando le mani. E quindi vengono qui da noi e imparano a fare il pane, che è un fattore di integrazione anche tra i popoli, ma imparano a servire, ma soprattutto imparano l'italiano. Con Confartigianato Piemonte raccontiamo gli artigiani. E oggi raccontiamo gli artigiani di una volta o meglio coloro che facevano gli artigiani e adesso sono pensionati, grazie all'Associazione ANAP, Associazione Nazionale Anziani Pensionati. Abbiamo ospite in trasmissione il Presidente regionale ANAP, Giuseppe Falcocchio, e la Vice Presidente di ANAP Torino. Benvenuti, buongiorno. Allora, descriviamo un po' le iniziative, che cos'è ANAP regionale, con il nostro Presidente Falcocchio. Bene, grazie. Allora, l'ANAP è una realtà nazionale che raggruppa, tutela e rappresenta tutti i cittadini in età pensionabile, non necessariamente imprenditori e artigiani, ma anche qualsiasi attività lavorativa. Perché in età pensionabile? Oltre che Presidente regionale, sei anche Presidente della territoriale di Torino di ANAP, quindi, però su questo poi parleremo con Patrizia delle iniziative territoriali. Riguardo invece quelle regionali. Allora, a livello regionale e in fase di realizzazione, un progetto a cui ci teniamo molto e che vedrà coinvolta ovviamente non solo il capoluogo Torino, ma tutte le sei sedi territoriali dell'ANAP regionale, in cui ogni sede proporrà un evento sempre a sostegno e per divulgare, diciamo, alcuni temi a noi cari. Esempio, la sicurezza singola dei cittadini contro le truffe, per quanto riguarda il benessere vero e proprio, e anche perché no, anche la salute, anche perché, in effetti, anche se l'età, come dire, si è allungata, purtroppo non coincide con il benessere in quest'arco di tempo. Ecco, queste sono iniziative regionali che coinvolgono tutta la regione e tutte le province. Invece, andando nello specifico, riguardo le iniziative di Torino, di ANAP, Patrizia Delzotto. Noi sviluppiamo ovviamente le linee guida che ci vengono fornite dal regionale, proprio per avere una uniformità. Le principali che abbiamo curato sono state quelle legate all'Alzheimer, dove abbiamo fatto una pièce teatrale dove illustravamo come si poteva risolvere in armonia fra amici quando un'amica o un amico ha questo problema. Abbiamo fatto dei mini-sketch per divulgare come sono basate le truffe, quindi come i truffatori riescono a entrare dentro le abitazioni dei pensionati o comunque delle persone molto anziane. Nel contempo, l'ultima iniziativa che abbiamo messo in atto è quella del pronto dottoressa, che è legata a una risposta immediata, sia telefonica che via WhatsApp, dei piccoli problemi che un anziano può avere durante la giornata. Ha anche solo il dubbio se prendono o non prendono una medicina perché è scaduto oppure no. Quindi a livello di informazione è non solo, logicamente, però far sentire meno soli comunque gli anziani, che molte volte purtroppo lo sono. Ci sono anche delle iniziative sui nonni verso i nipoti che voi fate? Sì, c'è un'iniziativa legata a una vacanza fatta fra nonni e nipoti dove viene data una convenzione economicamente vantaggiosa per poter permettere ai nonni di portare in vacanza con loro i nipoti e quindi vivere dei momenti di allegria. Questo perché comunque la finalità è quella di far star bene l'anziano. Se poi è un ex artigiano, meglio ancora per noi. Allora, è brutto dire ex artigiano perché l'artigiano lavora sempre, non va mai in pensione, tra virgolette, però voi insomma la pensione l'avete raggiunta, avete fatto entrambi un'attività appunto artigianale. Giuseppe Falcocchio nel mondo del benessere, della conciatura, invece Patrizia Delzotto nel mondo della puli, tinto lavanderia. Ecco, c'è un po', si parla ultimamente dei ricambi generazionali, lo chiedo a te Patrizia. Questo problema lo si sente nel tuo mestiere? Moltissimo, sono diminuite drasticamente le lavanderie, le pulilavanderie, le tintorie, perché comunque è cambiato molto il modo dell'abbigliamento. Il modo dell'abbigliamento è cambiato, si possono lavare bene facilmente abiti anche in casa, compresi quelli importanti. Quindi purtroppo è proprio così, è diminuita moltissimo. Nel campo della conciatura? Nel campo della conciatura c'è anche questo problema, però io personalmente devo dire, anzi devo confessare che non l'ho minimamente sentito in quanto in famiglia ho mio figlio che continua la mia attività insieme a sua moglie e tra un po' entreranno in ballo anche le mie due nipotine. Però sei stato anche dirigente di categoria per cui si sente anche un po' questa mancanza. Grazie a Giuseppe Falcocchio, grazie a Patrizia Delzotto, l'abbiamo trovati apposta per farla rima. Siamo in conclusione e vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. La valorizzazione della moda e in particolare degli operatori economici di tutta la filiera, quindi la sartoria, la moda pronta, ma anche il mondo della gioielleria e della bigiotteria di alta gamma, sono nel DNA di CNA Federmoda da sempre. La nostra associazione è attiva dal 1946 all'interno del sistema CNA Torino. Nello specifico, negli ultimi anni, CNA Federmoda sta lavorando moltissimo per la promozione dei giovani talenti. E questo avviene, devo dire, grazie alla collaborazione ormai strutturale con Timoda, con Claudio Azzolini. Quest'anno, il 27 giugno, a Greenpeace, abbiamo celebrato la nona settimana della moda torinese, la Torino Fashion Week, un appuntamento davvero che sta cominciando a diventare un qualche cosa di storico e che peraltro si ricollega alla grande storia di Torino, capitale della moda, una storia che affonda le sue radici nella seconda metà dell'Ottocento, quando qui a Torino si riproducevano i modelli in voga delle grandi maison parigine e arrivavano clienti da tutta Italia. Ma una storia che è proseguita ininterrottamente, pensiamo a che cosa è stato il gruppo finanziario Tessile, ma che continua ancora oggi, proprio con una moda indipendente, è una moda che non segue le mode delle passerelle milanesi e romane, ma che è una moda di sperimentazione, una moda portata avanti soprattutto da giovani donne. Il profilo della stilista torinese è under 40, spesso ha fatto degli studi di livello universitario, soprattutto Politecnico, Istituto Europeo di Design, Istituto d'Arti Applicate di Design di Torino, una persona molto preparata che spesso ha avuto familiarmente dei rapporti con il mondo della produzione e della confezione. Sono spesso le nipoti delle cosiddette caterinette che negli anni 50 e 60 hanno rappresentato un altro dei tasselli importanti della moda torinese. Quest'anno abbiamo portato in passerella a Green Pea, che è un luogo particolarmente significativo in quanto una parte importante delle giovani stiliste negli ultimi anni sta lavorando sull'upcycling, sulla trasformazione, sul riuso. Infatti questo è stato certamente uno dei fil rouge, degli abiti che sono usciti in passerella, per quanto per tradizione la Torino Fashion Week non vuole dare un tema e non vuole dare nemmeno una stagionalità, lasciando la massima libertà di espressione artistica. Allora ci tengo a leggervi i nomi delle stiliste, quasi tutte donne che abbiamo portato in passerella, anche insieme ad alcuni istituti di moda. E questo è un altro passaggio importante, da tre anni CNA Federmoda porta in passerella anche le scuole di moda. Abbiamo quindi avuto Inside di Carmen Miucci di Torino, Claudia Giuffré con il supporto dell'azienda Power Up di Torino, l'Istituto di Sartoria Floriana Ferrero di Pinerolo, G. Welly Studio di Greta Ballerini di Bolzano, una delle due special guest di questa edizione. L'altra in tandem, Gemmi Argioielli di Marina Dolbani, sempre di Bolzano, Enjoy Fashion di Joyce Canova a Torino, Marzia Boaglio, sempre di Torino, Solo Rose, Rosetta Sacchi, ancora di Torino, l'Associazione Scuole Tecniche San Carlo di Torino, una vera e propria istituzione che porta avanti il metodo di confezione della strepitosa Ilda Bianciotto, un'altra delle donne che hanno fatto la grande storia della moda torinese. L'Istituto Romolo Zerboni di Torino, West Rose di Claudia Rubioglio di Orbassano, che ha portato in passerella per la prima volta dopo la Milano Fashion Week qui a Torino l'abbigliamento aziendale di alta gamma. Tati Infinity con Tatiana Pankratov di Reggio Emilia in tandem con Levan di Larissa Dutescu di Vicenza, che sono le altre due special guest di questa edizione, quindi le due coppie di stilisti Bolzano-Reggio Emilia non legate al territorio piemontese. L'appuntamento con la moda firmata CNA Federmoda sarà quest'autunno in occasione della festa di Santa Caterina d'Alessandria il 25 novembre, dove per le ATP Final porteremo la nuova edizione della festa delle Caterinette e avremo sicuramente ancora delle sorprese e della possibilità di valorizzare i giovani talenti. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione!